Buongiorno da Garden in Trifoglio. Siamo di fronte alla novità di quest'anno. Quest'anno abbiamo costruito questo muro vegetale, riciclando bancali, cavalcando i temi dell'Expo sul nutrire il pianeta, sul riciclare, sul ridare vita alle cose. Abbiamo fatto questa struttura, adesso è pronta, abbiamo creato delle tasche, abbiamo creato sette tasche, dove andremo a, attualmente abbiamo messo il terriccio, andremo a piantare ortaggi e piante fiorite. Faremo, immaginatevi, una parete di orto verticale abbinato ai fiori. Diciamo un giardino fiorito verticale, dove si potranno raccogliere fragole, ci saranno i pomodori cascanti. Crescerà durante tutta la stagione. Adesso è ancora ovviamente presto, ma da settimana prossima le giornate dovrebbero, le temperature dovrebbero alzarsi un attimo e potremo iniziare a piantumare delle essenze. È una cosa, secondo me, molto particolare, molto interessante. L'anno scorso abbiamo iniziato a fare l'orto in contenitore. Vediamo che risultati avremo quest'anno da questo inizio di struttura, da questo esperimento. Vi attendo ai nostri corsi, vi ricordo, tutti i sabati, dalle tre del pomeriggio, gratuiti corsi sull'orto. Arrivederci da Gardner Trifoglia di Bodio. Grazie.